Come utilizzare la marketing automation per migliorare i tuoi risultati? Questo è un argomento di cui non ho mai parlato spesso, eppure io utilizzo tantissimo. Innanzitutto, che cos'è la marketing automation? Si tratta dell'insieme di tutte quelle azioni che vengono o possono venire fatte in maniera automatica e ha una serie di vantaggi veramente incredibili, primo tra tutti quello di essere completamente automatica, ovvero non ha bisogno di una persona fisica che si occupi di questo lavoro. E ciò ha l'immenso vantaggio di poter gestire una mola immensa di dati in maniera completamente automatica. Eppure non è tutto. Innanzitutto, vediamo quali sono i vantaggi che possiamo ottenere. Uno, primo tra tutti, quello che io utilizzo tantissimo, è quello che viene chiamato il lead nurturing, ovvero il nutrimento dei lead, cioè dei nostri potenziali clienti. E cosa significa? Che possiamo mandare delle comunicazioni ai nostri clienti in modo che vengano a conoscenza di quello che facciamo, dei nostri punti di forza, delle nostre caratteristiche, dei vantaggi che abbiamo rispetto ai competitor, eccetera, ovvero tutta quella comunicazione che ci servirà per trasformare una persona sconosciuta a potenziale cliente e poi a cliente. E questo è fondamentale, si può essere fatto in maniera automatica, perché significa che non abbiamo bisogno di persone che si occuperanno di questo. E, elemento numero due, questa comunicazione può anche essere personalizzata. Immagina questo. Quando uno si iscrive alle mie pillole di business, in una pagina del mio sito può selezionare se è un privato o un'azienda, e se è un privato se vuole avviare un'attività oppure no. Benissimo, io ad oggi ho scritto 609 mail, mi pare, e avrei potuto tranquillamente dividerle per una persona che ha un'attività riceve determinate email, una persona che non ha un'attività ne riceve delle altre, quindi ognuno riceverebbe il suo servizio personalizzato. Ora immaginalo simile applicato al tuo business. Se tu fossi un personal trainer potresti chiedere alle persone quali sono i loro obiettivi. Vuoi dimagrire? Perfetto, inizia a mandargli delle comunicazioni sul fatto che, grazie al tuo sistema di allenamento, può perdere peso, può avere questi vantaggi, il tempo che ci metti, insomma, tutto quello che tu ritieni opportuno per prendere una persona e convincerla, tra virgolette, a diventare tuo cliente. Ma se la persona invece voleva solo mantenersi in forma, la comunicazione che utilizzeresti sarebbe completamente diversa. E tutto ciò non prevede una persona fisica che si mette, ok, oggi è lunedì, mando una mail a tutte le persone che vogliono perdere peso. Oggi è martedì, benissimo, oggi mando una mail a tutte le persone che eccetera eccetera. Ma puoi fare tutto questo in maniera completamente automatica ed è un vantaggio veramente incredibile. Infatti il vantaggio numero due è quello che con una buona marketing automation riusciremo a ottenere dei lead più qualificati perché la stessa comunicazione che andiamo a utilizzare può fare da filtro tra persone che sono curiosi ma non diventeranno mai clienti a persone che invece possono diventare clienti. Come? Dipende sempre dai contenuti che utilizziamo. Ad esempio possiamo invitare le persone a compilare un modulo in cui gli chiediamo alcune informazioni e in base a quelle informazioni decidere poi quale chiamare. Quindi invece di dare al tuo venditore tutti i contatti che arrivano che possono essere migliaia magari iniziare solo da quelli che grazie a questo modulo scopri quelli di essere potenzialmente interessati a diventare clienti. Quindi invece di fare mille chiamate ne fa dieci e magari ti chiude nove contratti. Quindi assolutamente fondamentale. Il terzo aspetto che in realtà si lega al primo è quello di personalizzare la comunicazione. Quindi noi è vero abbiamo il sistema che farà tutto da solo. Ovviamente dobbiamo dargli i contenuti quindi quella è una parte che dovremmo creare noi. Però nel momento che lo facciamo tutto ciò funzionerà in maniera automatica ed è la cosa che a me piace di più in assoluto. Perché una volta che hai costruito il tuo modello questo continuerà ad andare da solo a lavorare per te 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Quindi è veramente stupendo. Tra gli altri vantaggi abbiamo quello di automatizzare alcuni processi di vendita. Ad esempio noi potremmo invitare i clienti ad acquistare in maniera autonoma un determinato prodotto o servizio. Se ad esempio vendiamo online questo è molto semplice da fare. Quindi noi potremmo inizialmente scaldare i clienti, poi invitarli ad acquistare quello che noi vendiamo e solo successivamente, magari in base alle azioni che hanno fatto queste persone, decidere quali chiamare oppure no. Immaginiamo questo esempio dove inviti la persona ad andare sul tuo sito, sul tuo e-commerce a comprare qualcosa. Perfetto. La persona clicca sul link ma poi non compra nulla. Bene, questa persona è sicuramente più interessata rispetto alla persona che ha ricevuto sempre la stessa mail ma non ha cliccato sul link. Quindi potresti girare a questo contatto al tuo venditore e fare chiamare solo quelli come abbiamo visto prima. Quindi abbiamo tutta una serie di azioni che possiamo fare che vanno a performare al meglio tutto quello che già stiamo facendo in maniera completamente automatica. E ripeto a me la cosa che entusiasma è proprio questa. Perché una volta costruito lavorerà per noi per sempre. Quindi oggi chiediti tu stai usando questi strumenti oppure no. Se la risposta è no sappi che applicandole al tuo business potrai ottenere dei grandissimi risultati. Con questo è tutto. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao. Aggiungo. Riguardo agli strumenti ne esistono tantissimi. Io personalmente mi trovo molto bene con OptiCampaign che è un autorisponditore quindi in via delle mail. Può anche lavorare come CRM quindi salvare i dati dei clienti eccetera. Se avete un po' di dimestichezza sapendo che puoi programmare riuscite a fare tutto anche con OptiCampaign. Altrimenti dovete appoggiarvi a sistemi esterni che permettono di sincronizzare più piattaforme. La cosa diciamo diventa un pochino più complicata. Però se siete degli imprenditori non è nemmeno una cosa che dovete fare voi personalmente ma dovreste delegare qualcuno che la faccia per voi. E ricordate che la cosa veramente bella è che una volta fatta come abbiamo visto lavorerà per voi per sempre. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao.